Ci sono posti che accompagnano l'anima e la fanno venire fuori, la basilica e il convento di clausura dei Santi Quattro coronati a Roma è uno di questi. Un luogo dell'anima dove è dolce naufragar, incontrando Dio nel silenzio e nella bellezza. Da giugno tutti potranno godere di questa divina bellezza. Infatti, dopo otto secoli, per la prima volta nella storia, apre al pubblico l'Aula Gotica, il più importante ciclo di affreschi pregiotteschi di Roma e forse d'Italia. Il complesso dei Santi Quattro coronati è uno degli edifici più importanti per quanto riguarda la storia del Medioevo a Roma. Ha avuto una fortuna, anzi due, una di essere stato vicino alla sede papale di San Giovanni e l'altro il fatto di aver avuto, sin dalla fine del Cinquecento, dentro un'istituzione molto povera, che era quella dell'Agostiniana e di un orfanotrofio. Infatti, sono stati completati i lavori di restauro sostenuti da Arcus per permettere la visita dello stupendo monumento, inglobato nell'ala privata del convento di clausura delle Agostiniane, già testimone negli anni Quaranta del Novecento del salvataggio di centinaia di ebrei italiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Sembrava impossibile che non si potesse aprire ai visitatori un ciclo di affreschi così straordinario per la metà del Duecento, quindi pregiottesco, che praticamente non si conosceva perché non era possibile entrare in quanto era tutta zona di clausura. Quindi grazie all'intervento delle monache naturalmente con le quali abbiamo condiviso questo progetto. E durante la visita si potrà sostare anche nello stupendo chiostro medievale, dove i frati, 800 anni fa, giocavano a filetto e lasciarsi andare con l'anima verso Dio.